Sono arrivati poco dopo mezzogiorno all'ex caserma Serena di Caser, 9 dei 50 migranti giunti all'alba al centro di smistamento di Marghera, gli altri 41 sono stati dislocati in strutture nel resto della regione con un modello di accoglienza diffusa. I 50 migranti si trovano in Veneto come conseguenza della pressione esercitata sugli hotspot dopo gli sbarchi in particolare di Humanity One e Geobarens a Catania, ma preoccupare non sono tanto i numeri attuali quanto quelli che si rincorrono nei corridoi dei palazzi del governo, 5.000 persone da ricollocare a livello nazionale da qui alle prossime settimane, 380 per il Veneto, una redistribuzione nazionale dei flussi quindi che vede le prefetture venete trattare la questione con la massima cautela visto anche il clamore di questi giorni e nelle ore in cui tra Parigi e Roma si consuma uno strappo senza precedenti con i francesi che hanno annunciato la sospensione del meccanismo di accoglienza europea per 3.500 rifugiati attualmente in Italia. Sullo suondo c'è la prodo della Ocean Viking a Marsiglia. Tornando a Casier dove in passato non sono mancati episodi di tensione, i 9 migranti sono tutti uomini dal Pakistan, un numero gestibile dicono dalla struttura dove sono già ospitate 300 persone. Parliamo di numeri assolutamente contenuti in questo momento. Rispetto ai numeri impressionanti che abbiamo avuto nel 2016, ricordo che siamo arrivati a volte 750 ospiti nel 2016, in questo momento insomma riusciamo a fare tutte le attività che sono previste e dare ai ragazzi una tranquillità abitativa. Per loro inizieranno percorsi di integrazione e collocamento come avviene da quasi sette anni a questa parte. La struttura è stata aperta nel 2015, a luglio 2015 per fronteggiare una prima emergenza, ha accolto migliaia di persone in questi anni. La gran parte, la stragrande maggioranza di questi si sono integrati nel nostro territorio e hanno ottenuto una prospettiva. Noi abbiamo la fortuna di avere un tessuto imprenditoriale e un tessuto lavorativo molto forte all'interno della nostra provincia che ha assorbito in maniera molto veloce la gran parte dei ragazzi accolti. Quanto alle prospettive per le prossime settimane, Marinese fa appello alla sua esperienza umana e professionale. Io in realtà avendo gestito Lampedusa per molti anni, le parlo di una fine della stagione, in questo momento il mare, l'inverno è arrivato, il mare quindi si ingrosserà e le partenze si bloccheranno, poi sarà gestita il fenomeno insomma in altre sedi che sicuramente normalizzeranno la situazione.